allora cominciamo e 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 ok? e e e e e